Devo ammettere di essere teneramente stupito. Una zappaterra, orgogliosa e testardo, un somaro, ma con la volontà di elevarsi. In paese ci entravamo a volto scoperto, così che tutti potessero vederci in faccia. Ci spostavamo di continuo e marciavamo per miglia ogni giorno. Sette compagni. Mi riferiscono di lei, brigadiere, come di un capace milite di nata risolutezza e retitudine. Sei fuggito per venire al mio matrimonio. Non gradivo la zuppa del carcere. Gli altri non aspettano che vederti. Il furfante è questo grosso, ovvero un ladolo di polli. E la sua marmaglia non è altro che un manipolo di disgraziati malarmati e dalla vacillante motivazione. Poi la forza e l'audacia di mettere insieme questo malcontento. Non sono le dipendenze del Papa, prete. Sono il brigadiere cardinale. Voi tutti già sapete dell'incarico. Quanto gli hanno dato di prigione, eh? Dieci? Dodici anni? È evaso. Due settimane fa. I miei bravi zappaterra. Farete il tempo a morire di fame e di freddo prima che quello esca dal carcere. Quest'ultimo scontro da perdenti in fuga con la coda tra le gambe conferma ogni mio dubbio sulla sua incapacità a portare a termine quando l'è stato incaricato. In ginocchio! In ginocchio! Andate via, c'è il mio marito! Mentre la distruzione, le galline! Le mani voglio vederti urlare, Marco. E bagnarti le mani nel loro sangue. Nel sangue di quelli che chiami i patroni. Ponterò fino a tre, brigadiere! E poi sarete un uomo morto. Uno! Due! Tre! Arrendetevi! Consegnatevi alla giustizia! E la do io la giustizia!